Salve, se soddisfi criteri di ammissione puoi diventare membro della nostra associazione. Voi membri siete a conoscenza del progetto di accreditamento della nostra associazione. L'abbiamo realizzato e portato a termine seguendo le raccomandazioni dei nostri partner Swiss Olympic e della Federazione Internazionale di Fisioterapia Sportiva. Questo progetto è stato convalidato da questi due partner. In questo modo ci uniamo alle più grandi associazioni che hanno già effettuato questa procedura, Regno Unito, Australia per esempio. Ogni fisioterapista che è già membro della nostra associazione può essere accreditato. Si tratta di un processo personale e non obbligatorio. Questi livelli A, B, C che troverete spiegati nei vari documenti depositati nel Members Corner sul nostro sito web vi permetteranno, tra l'altro, di essere elencati da Swiss Olympic in base al vostro progetto professionale con questa struttura. I livelli di accreditamento A e B sono richiesti, tra l'altro, per potersi candidare presso questa struttura, come fisioterapista sportivo, capo per associazioni nazionali e o per grandi eventi sportivi, ad esempio Olimpiadi, Cambionati del Mondo, ecc. I membri dell'ASFS che hanno raggiunto il livello di accreditamento A possono richiedere l'IFSPT, il titolo di Registered International Sport Physical Therapist. Ancora una volta si tratta di un processo completamente personale e non vincolante e, come detto, troverete sul sito le spiegazioni dei diversi livelli e il modulo da inviarci.